Quale sarà la squadra da abbattere in questa Serie A 2024-2025? Lo scoprirete tra poco, ma prima di incominciare, sabbenedica a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Anton99 e oggi, come vi ho presentato l'argomento, parleremo di Serie A. Ma prima di continuare, ragazzi, come sempre, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per supportare questo mio canale e poi commentate a fine video che cosa ne pensate di questo contenuto. Detto ciò, ragazzi, possiamo subito incominciare perché questo è un video molto personale, nel senso, voglio esprimere il mio parere, senza dire, ah, che ha acquistato questo, che ha acquistato quest'altro. Certo, influenzeranno anche gli acquisti di calciomercato per quanto riguarda il pensiero che voglio esprimere oggi in questo video. Allora, il concetto è questo. Diciamo che l'anno scorso è stata una Serie A neanche troppo deprimente, nel senso, ci sono state anche squadre come ad esempio la Juventus, come ad esempio per alcuni momenti anche il Milan, solo che poi è venuta fuori la reale forza dell'Inter. L'Inter sappiamo che negli ultimi anni ha fatto un grande upgrade, ha cercato comunque di valorizzare sempre di più i propri calciatori, però è ovvio che se dovessimo paragonare la rosa dell'Inter con Juve, Milan e altre squadre, parlando sempre dell'anno scorso, stiamo parlando di una delle squadre più forti e competitive del campionato, tant'è che poi la squadra nera azzurra ha raggiunto anche una finale con Manchester City persa di misura. Scopriremo quale sarà la reale protagonista di questo campionato, con alcuni accenni riguardo ad altre squadre che potrebbero in teoria essere le sorprese che vinceranno il campionato, quindi non stiamo parlando in realtà di sorprese, ma parliamo sempre delle classiche big, più qualcuna che magari potrebbe riemergere successivamente. Secondo me la squadra da battere quest'anno è nuovamente l'Inter, quindi senza ombre di dubbio loro saranno i protagonisti per quanto riguarda la Serie 2024-2025, ma al di là del fatto che Simonin Zaghi faccia giocare la propria squadra bene, sia in Italia che in Europa, per cui bisogna prenderne atto che l'Inter ha un'ottima squadra e che sa reggere la competizione di tutte le coppe oltre al campionato. E a parer mio quando hai un valore aggiunto come Marotta all'interno di una società come l'Inter, sicuramente, non dico che non puoi perdere, però hai grandi possibilità di ottenere delle vittorie. E questa è una figura che può accrescere ancora di più e valorizzare ancora di più la squadra nera azzurra. Adesso parliamo delle sorprese. Tra le sorprese mi viene da pensare ad esempio alla Juventus di Tiago Motta. Tiago Motta ha dimostrato col Bologna l'anno scorso di essere una signora squadra e di essere anche lui un ottimo allenatore. A parer mio l'investimento della Juventus su Tiago Motta è stato ottimo, ha delle idee interessanti per quanto riguarda il calcio del futuro, riguardo all'idea di gioco che vuole improntare sulla sua squadra, e anche il modo di comunicare è interessante. Sta facendo veramente un ottimo lavoro sia con i giovani, sia nel togliere gli ingaggi pesanti all'interno della squadra e ottenere quei calciatori che possono essere funzionali nel modulo di Tiago Motta. Sappiamo bene che a Tiago Motta gli piace giocare a tre, a quattro, alle volte gioca anche con un portiere che è magari più bravo con i piedi, in altri casi che è più bravo con le mani. Mi viene da pensare ad esempio che col Bologna ha fatto ogni tanto Skorupski, Ravaia, per giocare in una determinata maniera in base alle partite che doveva affrontare, e poi oltre alla Juventus mi viene da mettere il Milan, che è una squadra sì in piena ricostruzione, perché sappiamo che dopo l'addio di Giroud adesso hanno preso Morata, sicuramente faranno altri acquisti anche se stanno andando a rilento. Con l'avvio anche di Fonseca molti milanisti sono scettici, però può essere anche quel valore aggiunto che magari nessuno si aspettava. Poi un'altra squadra che qualche tempo fa ho trattato su questo canale è il Napoli. Anche se la sto menzionando all'ultimo, non sottovalutiamo Antonio Conte. Antonio Conte col suo Napoli quest'anno avrà solamente due competizioni, che sono il campionato e la Coppa Italia. Mentre Milan, Inter e Juventus durante il corso del campionato si potrebbero stancare, perché ci sono le varie coppe, mi viene da pensare alla nuova Champions League, e quindi questa cosa potrebbe essere un elemento a sfavore delle squadre che si sono piazzate davanti al Napoli e quindi potrebbe compromettere il cammino delle tre che ho menzionato prima. E quindi il Napoli di Antonio Conte potrebbe sfruttare questa possibilità al loro vantaggio. E attenzione perché anche il mercato del Napoli in realtà non è neanche bruttino. Tra l'altro in precedenza si è parlato di Romelu Lukaku, adesso non lo so se Romelu Lukaku è stato ufficializzato al Napoli o comunque ancora deve essere trattato, però resta il fatto che Antonio Conte non bisogna sottovalutarlo. Sappiamo bene che cosa ha costruito all'epoca nell'Inter e quindi figuriamoci che cosa potrebbe costruire nel Napoli. È chiaro che bisogna vedere la convivenza tra De Laurentiis e Antonio Conte come sarà, sappiamo che loro sono due persone molto vulcaniche, sappiamo che Conte ha una sua linea di pensiero, mentre Aurelio De Laurentiis ne ha un'altra, sappiamo molto bene quale. E quindi sono due persone molto conflittuali tra di loro dal punto di vista caratteriale. Però chissà potrebbero essere la coppia che magari non vi aspettavate in questo campionato, ovvero un Napoli che zitto zitto potrebbe diventare poi più avanti nel corso del campionato la reale protagonista di questo campionato Serie A 2024-2025. Voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere tramite un commento e noi ci becchiamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi!